pace bene sono a registrare questa omelia da siget una cittadina della romania al confine con l'ucraina quelle mie spalle vedete l'oratorio che i frati cappuccini hanno costruito una ventina d'anni fa e attualmente c'è un convento di frati e un'attività con i giovani di questa in questa città e siamo venuti dall'italia queste due settimane per svolgere attività estive con i bambini dalle suore e con gli animatori stiamo affrontando proprio il tema delle parabole del vangelo di matteo che abbiamo letto in queste domeniche siamo partiti appunto dalla parabola del seminatore buono e ci siamo accorti che il nostro dio gesù lo presenta come un dio sprecone come un dio che esce a seminare e semina anche laddove sa che non può raccogliere questa è l'immagine più autentica che gesù ci trasmette dunque dietro la realtà dietro la vita nella vita c'è una generosità c'è una sovrabbondanza questo è il cuore del vangelo e a noi credenti sta la possibilità l'appello di reagire in quale modo reagire a questa sovrabbondanza di vita ecco i diversi tipi di terreno e oggi le parabole che sottolineano che di fronte a una preziosità di una perla o di un tesoro in un campo chi le trova cosa fa vende tutti i propri averi per potersi accaparrare quella perla o quel tesoro quindi di fronte alla preziosità alla sovrabbondanza qual è la reazione quella di un tutto io e te siamo convinti che dietro alla vita c'è una sovrabbondanza c'è una generosità o piuttosto siamo stati educati siamo stati avvertiti dalle esperienze a volte faticose della vita che in realtà la vita è avida e avara e dunque è più prudente accaparrare più prudente conservare e più prudente trattenere questa seconda logica è quella se vi ricordate che troviamo alla fine delle parabole di Gesù messa in bocca al servo fannullone al servo che riceve un talento e per paura del suo padrone va a sotterrare quel talento e poi glielo restituisce e quel padrone dice ma perché hai fatto questo e lui svela l'immagine che ha del padrone e di Dio ho avuto paura perché so che sei un padrone severo duro che raccogli dove non hai seminato ecco questo è l'esatto contrario dell'immagine che Gesù ci offre nelle parabole di queste domeniche Dio è colui che semina anche sa anche laddove sa che non può raccogliere non che raccoglie dove non ha seminato qual è l'immagine che regna in me e in te? perché a seconda dell'immagine che ho di Dio, della sua generosità o della sua avidità poi mi relaziono con le cose, con gli altri ecco allora un appello a vendere tutto per guadagnare quel tesoro per accaparrarti quel tesoro sapendo che dietro c'è un Padre generoso che è disposto a darci tutto, che ci ha dato tutto nel Figlio e dunque chiede che noi ci doniamo tutto a tutti buona domenica